Ma no, ma avete una piccola piccola, avete una piccola piccola, allora, no, ma ti chiamate in Zallocchi, ti chiamate, cardinale, cardinale, una cosa, una cosa dovevi fare, una cosa buona volevi fare, nella vita tua, una, una, lo stadio nuovo del Milan, da soli, avveniristico, futuristico, il migliore, lo stadio più bello del mondo, da do, da den, un miliardo e mezzo, da qua, di là, Christe, madonna, facciamo queste, quest'altro, eccetera, eccetera, dopo che siamo stati anni, 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 non mesi, anni, alla Mag, che cosa succede? C'è la possibilità che il Milan e Inter lo facciano insieme, di nuovo, a San Donato, cioè, ma veramente, ma è a Seudan! Ma poi, dopo, dopo che hai fatto, diciamo, tutto il lavoro sporco, te l'hai vista tu, tu, Milan, abbiamo fatto la Scorzen Gun, per anni, abbiamo lavorato con questo e quest'altro, contro quelli e quegli altri ancora, la storia non è ancora finita, sarà ancora lunga, di qua e di là, dopo, quando si vede la luce in fondo al tunnel, a Reflinderdisch, facciamolo stadio insieme, sì, facciamolo stadio insieme, ma è un qualcosa di inaccettabile, ma poi, cos'è che dobbiamo fare insieme all'Inter? Per una volta, che avremmo avuto anche il vantaggio nei loro confronti, nel tempo, perché tu, di sicuro, l'avresti fatto prima, loro, nelle condizioni in cui sono, non so se lo vogliono fare, lì a Rozzano è tutto fermo, sono tutte chiacchiere, ma al massimo sarebbero rimasti da soli a San Siro, eccetera, tu, finalmente, con uno stadio nuovo, con degli introiti, tutti per te, con una situazione nuova di zecca, eccetera, uno stadio tutto rosso-nero, per una volta, da due, da te, al meglio, dopo anni e anni di lavoro, facciamo un stadio insieme a Chedar Reht, di nuovo, di nuovo, dopo cinque anni non c'è il game, di nuovo! Ma io non ce l'ho fatto, ma io non ce l'ho fatto, dici, i costi sarebbero dimezzati, piacerò o cazzo che i costi sarebbero dimezzati, ma sarebbero dimezzati pur gli introiti, saranno dimezzati pur gli introiti, ma poi vuoi mettere uno stadio a tema, tutto rosso-nero, che ti puoi, puoi fare quello che vuoi, i sediolini rossoneri, e dentro ci fai tutto quello che vuoi, invece adesso, in quella maniera là, vai a fare tutto un altro disco, e io dico, ma poi che cosa significa, a fare una retenzione a Chedar? Gli vogliamo dare una mano, gli vogliamo aiutare noi a questi, cioè, non lo so, ogni che altro cazzo vi dovete inventare, Cardinale, una cosa buona vi va a fare, una cosa era, che dovevi fare, una, una, lo stadio di proprietà del Milan, una, che ti è molto estremuto, una, ma a 20-19 non c'è il cazzo, fammi uscire che io e me, fammi uscire a mangiare, testa di cazzo!